Emergenza coronavirus, teste e cure gratuite per stranieri soggiornanti in Toscana per motivi di studio, ricerca, insegnamento e turismo. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal governatore Enrico Rossi. Studenti, ricercatori e turisti stranieri avranno accesso ai percorsi di prevenzione e cura del Covid-19 previsti dalle ordinanze nazionali e regionali sinora emanate. Anche per loro, per essere sottoposti al tampone, varrà la doppia condizione di provenire da aria sottoposte a misura di quarantena o essere stati in relazione stretta e prolungata con un caso positivo e avere evidenti sintomi influenzali e respiratori. Per queste persone, 8.000 all'anno, quelle presenti per ragioni di studio e ricerca e per gli oltre 40 milioni di turisti stranieri annuali, spiegarossi, non esiste una definizione chiara di carattere nazionale delle modalità di presa in carico e della copertura sanitaria. è una laguna che con questo provvedimento proviamo a colmare.